... per Milano Centrale, in partenza dal binario 3, ferma a Piacenza, Lodi. Il treno regionale di Trenitalia, nelle ore 7.45, proveniente da Piacenza e Direzione, si ramezza che è chiamato a ottenere le porte esterne di treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi. ... 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